ecco, va bene vieni, vieni, vieni da me Emanuele vieni da me e dimmi dall'orecchio dimmi dall'orecchio un po' tempo fa è venuto a mancare mio papà e lui era atio ma ci ha fatto battessare a tutti i quattro figli era un uomo bravo e in cielo papà che bello che un figlio dica del suo papà era bravo voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? pensate a quello? ma forte, con coraggio Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? ecco, Emanuele, questa è la risposta Dio sicuramente era fiero del tuo papà magari tutti noi potessimo piangere come Emanuele quando avremo un dolore come a lui nel cuore grazie a tutti